BELLA RAGAZI QUA E FANTO 90 E Oggi andiamo a scoprire insieme come sbloccare questa testa minecraftiana in Borderlands 2 e il relativo costume da Steve I colori ricordano proprio lui quindi Allora aspettate che lo cambio perchè a me non è che mi faccia impazzire veramente No, ho detto zero Mi piace, lo standard Forse è meglio rosso Meglio rosso, si è meglio rosso E non a caso è meglio rosso Quindi seleziona, meglio rosso Chiudi Ottimo, quindi Diriggiamoci verso le Caustic Caverns Se ancora non l'avete trovata basta andare dove si trova Sanctuary Prima che volasse in seguito al bombardamento dei mortai dell'Hyperion E troverete un enorme buco che dovrete scendere Uccidendo qualche nemico Insomma una volta scesi arriverete alle Caustic Caverns Che si trovano proprio sotto la vecchia Sanctuary Una volta giunti qua Andremo avanti E apriamo il portellone Quindi proseguiamo verso nord Ammazzando magari qualche nemico così a caso Ammazzando magari un po' di più E giungeremo a queste rotaie Che dovremo attraversare Giustiamoci qua sulla destra Saltiamo, saltiamo, saltiamo E troveremo questo accumulo di dirt Ovviamente preso da Minecraft E la frantumeremo Attenzione i proiettili non hanno nessun effetto Dimostrazione pratica Capito? Quindi non sprecate i proiettili E distruggetelo a colpi di attacchi corpo a corpo Troveremo una caverna che ci ricorda molto Minecraft Una torcia Cobblestone Cobblestone o meglio stone Carbone Noi continuiamo a frantumarla E al suo interno Troveremo Dei creeper Che tenteranno di ammazzarci Quindi noi Stiamo attenti Perché appena si avvicinano Esplodono Dimostrazione pratica Dovrebbe arrivare Dopo che ne ammazzate un paio Qualche skin Questa è la skin di Steve E dopo che ammazzate un paio di questi creeper piccoli Dovrebbe arrivarne uno Che è l'Eccolo appunto Creeper duro Voi Ammazzatelo insomma Sperando di avere armi abbastanza decenti E queste non sono male Eventualmente Ecco Ci mancava che mi facciate sfruttare Ok una volta Mortis Cercate di non morire ovviamente Vi lascerà Questa testa Che è quella di Steve Quindi niente ragazzi Grazie per aver visto il video Adesso potete equipaggiare anche voi la testa di Steve Non morite come un idiota Come il sottoscritto Insomma di averlo ammazzato Ma si è avvicinato un po' troppo Non lasciatevi avvicinare dai creeper E soprattutto Buon gioco ragazzi Bella E alla prossima puntata